Per i viaggi, specialmente quelli fuori dai grandi circuiti, il passaparola funziona più che mai. Consigli che si rivelano fondamentali in caso di città come Benevento. Questa volta però la pubblicità è tutt'altro che positiva e viaggia su uno dei più importanti e visitati siti in ambito turistico. Mia moglie ed io, scrive un turista su TripAdvisor, abbiamo deciso di visitare alcune piccole città che normalmente non rientrano nei tour turistici e siamo partiti per Benevento. La delusione è stata immensa. Città sporca, musei e chiese chiuse, un paio hanno aperto dopo le 17. Nessuna indicazione per raggiungere quello che dovrebbe essere un bellissimo anfiteatro e che invece è una cloaca a cielo aperto. Ci sarebbe molto altro da dire. Una stella dunque a Benevento, secondo questa recensione che descrive in poche battute una città ancora molto lontana da essere un luogo accogliente per i turisti. Si salvano gli operatori questa volta, per il resto è un pugno nello stomaco proprio a chi con il turismo tenta di lavorare. Un'opinione che mette in evidenza emergenze ancora troppo all'ordine del giorno in una città che negli ultimi anni nel settore turistico dice di voler investire. La strada è ancora lunga e le emergenze ancora troppe.